La proposta di tenere in vita una sola linea produttiva, confermando in maniera quasi totale il taglio del personale addetto, non può essere accettata dai sindacati e dai lavoratori della Betafence di Tortoreto, che dopo la riunione ieri in videoconferenza del tavolo di trattativa al Mise, a sei settimane di distanza dall'ultimo incontro, ritengono insufficiente la proposta dell'azienda. Il Mise ha chiarito, attraverso le dichiarazioni della sottosegretaria Todde, come lo stesso non sia disponibile ad erogare sostegni economici a fronte di un piano che preveda licenziamenti per il sito di Tortoreto, concludendo che il tavolo di trattativa verrà riconvocato quando l'azienda presenterà un piano sostenibile e condivisibile tra le parti. Come Fim Fium Wilm, si legge in una nota congiunta, crediamo che sia una situazione surreale. Dopo sei settimane dall'ultimo incontro, infatti, l'azienda si è presentata al tavolo senza numeri, senza un piano industriale credibile e confermando i licenziamenti, oltre a chiedere finanziamenti pubblici. E' un atteggiamento inaccettabile e irrispettoso, continuano i sindacati nei confronti di un tavolo istituzionale e dei lavoratori di Tortoreto. In questi mesi, si legge ancora nella nota, dall'annuncio di chiusura dello scorso luglio in poi, l'atteggiamento aziendale ha soltanto depauperato le prospettive economiche e l'appetibilità di uno stabilimento senza crisi produttive negli ultimi anni. La conferma dei licenziamenti da parte di Betafence, concludono i sindacati, preclude una trattativa sostenibile. Servono e vanno trovate soluzioni alternative a livello istituzionale attraverso un confronto con coloro che seriamente vogliono la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Tortoreto.